Il progetto di riqualificazione di Via Grande a Livorno, biglietto da visita della nuova Livorno con pavimentazione dei portici a tinta unita, va come i gamberi, nel senso che non smaltisce i cantieri, ma lì moltiplica e talvolta trasferendoli in piena sede stradale. Se a questo aggiungiamo il Vietnam dei molti palazzi privati con le facciate in corso di restauro, ultima memoria del terrificante super bonus edilizio, avremo situazioni come quella di Via Fiume con negozi e attività ormai imprigionati dalle transende. Se in piazza Colonnella si stratificano le aspettative per ricevere di qui alla fine del mese i piastrelloni previsti dall'ambizioso progetto di restauro, nulla accade nella parte sud di Via Grande dove le ruspe non hanno ancora aggredito la vecchia palladiana, ancorché integra, per sostituirla con i nuovi lavorati previsti dalla bando del marzo 2022. Questi ultimi stanno avendo un parto laborioso nei laboratori artigianali della piana fiorentina, dove pare ci siano difficoltà tecniche nella scomposizione cromatica dei triangoli che dovrebbero fungere da piastrella. A questo punto, a poco meno di 15 giorni dal voto, pare improbabile che il sindaco possa realizzare il piccolo grande sogno di camminare per almeno 100 metri sulla nuova palladiana, anche se, come anticipò l'assessore ai lavori pubblici Viviani, i primi interventi avrebbero riguardato l'ormai secolare impianto di illuminazione, che sarà ovviamente testato non prima del ritorno dell'ora solare. Intanto l'amministrazione, con una nota preventiva ai cittadini, si concede l'ultimo sfizio di asfaltare Largo Duomo e zone limitrofe, mentre le sette associazioni che avevano pregato il sindaco di sospendere ogni operazione fino alla data dell'eventuale ballottaggio, il 23 giugno prossimo, tornano a scrivere al mayor rinnovandogli l'invito a differire lo smantellamento della palladiana.